Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Allora apriamo, come di consueto, con il bollettino, con l'aggiornamento del Gores. Il Gores che ha comunicato poco fa i dati, i dati aggiornati. È una giornata difficile quella di oggi, come ha dichiarato anche il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. Oggi in totale ci sono stati 22 decessi, 14 nella giornata di oggi, 8 nei giorni scorsi, ma con diagnosi precedentemente dubbia e invece ora confermata. Il nostro pensiero, ha detto Luca Ceriscioli, la nostra vicinanza e il nostro impegno sono per coloro che stanno soffrendo e per il personale sanitario che sta veramente dando il massimo. Allora vediamo il servizio che ha curato Francesco Salvago. I test effettuati oggi salgono a 3.560 nelle Marche, annunciarlo il Gores. Negli ultimi due giorni la percentuale di tamponi positivi rispetto a quelli analizzati si è attestata intorno al 35%, mentre nei due giorni precedenti si erano registrati percentuali sopra il 50% con un picco del 63%. I casi positivi odierni in regione sono 1.371, di cui in provincia di Pesaro-Urbino sono 812. I ricoverati in terapia intensiva in totale sono 109, a Marche Nord 28, al Torrete di Ancona 26, mentre a Urbino 3. I ricoveri in area di semi-intensiva sono 144, a differenza dei 426 ricoverati in reparti non intensivi. I casi di isolamento 3.862, di cui nella provincia di Pesaro gli asintomatici risultano 1.340 e i sintomatici 281. I ricoveri di degenze post-critiche sono 29 distribuiti nelle strutture di ricovero di Chiaravalle, Galantare e Fossombrone. I decessi odierni sono 14, salgono a 91 nelle Marche, tutti con patologie pregresse. Tre residenti a Fano, un 80enne di Macerata, un 82enne di Ancona, un 81enne di Vallefoglia, 71enne di Falconara Marittima e 63enne di Chiaravalle, 80enne di Mondolfo e 5 a Pesaro con età media di 80 anni. Nelle Marche sono arrivate 300.000 mascherine, come annunciato il presidente della regione. Una notizia importante, questa notte sono finalmente arrivate 300.000 mascherine, 150.000 FFP2, quindi quelle di alta protezione, e 150.000 di chirurgiche. Strumenti essenziali per chi lavora in sanità, per essere protetti, per poter continuare a offrire assistenza. Aspettiamo altro materiale, ma questa notizia l'attendavamo, molto importante. È un passo in avanti che ci aiuta tutti nel gestire al meglio questa situazione. E' fatto molto discutere la decisione presa ieri dal Comune di Fano di chiudere il parcheggio dell'ex caserma Paolini. Fin dai primi momenti dell'emergenza Covid-19, il COC di Fano, presieduto dal primo cittadino Massimo Seri, quotidianamente si riunisce per analizzare l'evolversi della situazione contingente e di volta in volta varare misure che rispondano all'esigenza del momento per affronteggiare al meglio e con tutte le risorse possibili le criticità che si presentano e rispondere anche alle aspettative di sicurezza ed efficienza che la cittadinanza chiede in questi casi. Anche nella riunione di ieri sul tavolo c'erano diversi punti da analizzare. Innanzitutto la razionalizzazione delle risorse umane a disposizione e di qui la decisione di chiudere il parcheggio presidiato della caserma Paolini. Ma anche la pulizia e la sanificazione delle strade. E non ultima la situazione critica che sta affrontando la residenza per anziani Famiglia Nova che oltre ai contagi vede anche defezioni pesanti nell'organico e che ha chiesto a gran voce il supporto delle istituzioni. Ieri abbiamo dedicato tutta la giornata proprio ad affrontare questo aspetto e devo dire che con grande responsabilità è stata affrontata isolando e separando i positivi dai negativi. Ovviamente l'allerta è alta in queste strutture perché sono quelle strutture dove il virus si può insinuare con maggior facilità. Abbiamo deciso ieri di chiudere anche il parcheggio all'interno dell'ex caserma Paolini per una ragione semplicissima. Per mantenere aperta la struttura dobbiamo tenere lì tutte le ore dei volontari della protezione civile. Ci sembrava eccessiva questa cosa. In questo momento i volontari abbiamo bisogno che facciano altro, che non stiano lì seduti a tenere aperto un parcheggio in un momento in cui le macchine sono ridotte in modo considerevole. Aset è già iniziato alcuni giorni, voi non ve ne accorgete perché lo facciamo di notte con le spazzatrici dove viene inserito del liquido disinfettante. Stiamo sanificando e pulendo le strade, non tutte ovviamente, ma lo stiamo facendo in tutte quelle aree dove c'è più movimento. Abbiamo iniziato dalle zone intorno all'ospedale, quindi quelle strade più frequentate. Fondamentale, dicevamo, il capitale umano nella gestione di questo tipo di crisi e quindi i volontari del CB Club Mattei sono sempre più gli angeli custodi di persone fragili, sole o in difficoltà. Noi abbiamo dieci volontari al mattino e otto il pomeriggio che vanno e vengono fortunatamente alla comunicazione radio, siamo in grado di intercettarle a metà senza farli tornare e diventa un giro continuo durante la giornata. I ragazzi rispondono molto bene, non tutti, c'è chi l'ha presa bene, c'è chi l'ha presa male, c'è chi non la ritiene un'emergenza di protezione civile, ma devo dire che la risposta c'è e finora teniamo bene. Abbiamo una turnazione di questo ritmo, dieci al mattino, oggi il pomeriggio, fino al 3 di aprile, quindi speriamo bene. Sul fronte dei controlli, va detto, c'è ancora molto da fare. Molta gente si ostina ad uscire di casa senza validi motivi, per questo proseguono i controlli da parte delle forze di polizia, anzi verranno intensificati così come accadrà nelle prossime ore a Fano. Intanto il Ministero dell'Interno ha pubblicato sul sito internet il nuovo modulo da scaricare per l'autocertificazione. Proseguono le attività di controllo e vigilanza sul territorio dei finanzieri del Comando Provinciale di Pesaro sul rispetto da parte dei cittadini delle disposizioni normative antivirus. I militari hanno avuto modo di notare come la gran parte della popolazione risulta rispettosa dell'osservanza del periodo di limitazioni imposte dall'emergenza, a parte dell'eccezione rilevati sui comportamenti di otto cittadini, tra cui anche una minorenne, che tra sabato e domenica avevano ritenuto di dedicarsi a visite a parenti e amici o a viaggi di piacere tra i principali comuni della provincia. A Fano le Fiamme Gialle hanno individuato in stazione due uomini e una ragazza minorenne, i quali a bordo di una vettura erano intenti ad attendere la madre di lei, proveniente dalla Lombardia e residente in provincia di Varese, in arrivo a Fano con il treno per far visita alla figlia. Sempre in stazione i militari hanno individuato un'altra persona proveniente da Falconara Marittima di origine africane, che di fronte alla richiesta dei finanzieri di autocertificazione, la donna ha dichiarato di essere andata a trovare un amico e di non conoscere il coronavirus. I controlli dei militari hanno rilevato anche delle dichiarazioni disattese delle autocertificazioni da parte di un cittadino trovato alla fermata dell'autobus proveniente dal comune di Vallefoglia e diretto a Fano per presunti motivi di lavoro. Dei controlli effettuati l'uomo avrebbe dichiarato il falso in quanto dagli accertamenti risulta dipendente di una cooperativa sociale di Pesaro. I controlli sono proseguiti anche sulla strada statale 16, dove è stato rimandato a casa un sedicenne trovato a percorrere in bicicletta la strada interessata proveniente da Fano e diretto a Pesaro suo logo di residenza, non fornendo ai controlli nessuna giustificazione. Sulla strada panoramica Ardizio da Fano verso Pesaro è stato fermato anche un'automobilista distratto rispetto al grave periodo ha dichiarato ai finanzieri di essersi recato a far visita al fratello e che non riusciva a capacitarsi di aver fatto un atto vietato. Anche il comando di polizia di Fano in questi giorni ha effettuato 20 denunce invece i carabinieri ne hanno rilevato 10 per violazione dell'articolo 650 del codice penale previsto dal decreto. In particolare nella giornata di ieri in Sassoni è stato fermato anche un giovane che alla vista della polizia ha tentato di scappare ma poi fermato, perquisito e denunciato all'autorità in quanto gli è stato trovato addosso un quantitativo di sostanza stupefacente. I controlli proseguono anche nelle aziende della Regione Marche per verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, delle aree vaste con telefonate finalizzate o fornire una prima informazione e valutazione con sopralluoghi che hanno il doppio scopo di procedere con provvedimenti sanzionatori fino alla chiusura delle ditte che non applicano correttamente le misure di tutela dei lavoratori. I controlli sono iniziati verificando 24 ditte in area vasta 1 43 in area vasta 2 10 in area vasta 3 così come in area vasta 4 e 19 in area vasta 5. Al fine di facilitare i controlli la Regione ha elaborato una lista contenente i criteri da rispettare su cui vertiranno le verifiche. Intanto disposta una nuova autocertificazione per gli spostamenti tra le misure già adottate nella precedente il dichiarante sotto la propria responsabilità deve affermare di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus Covid-19. E l'assessorato alla Polizia Locale di Fano fa sapere che nonostante ripetuti appelli al buonsenso e alla collaborazione sono indiversi che stanno continuando a malinterpretare le indicazioni e a non contribuire come dovrebbero evitando così di uscire se non strettamente necessario come richiesto dai numerosi appelli anche del Sindaco di Fano Massimo Seri. Quindi si rendono necessarie ulteriori misure di controllo. Da oggi saranno ulteriormente intensificati i presidi della Polizia Locale di Fano che interesseranno da nord a sud tutta la città compresi i parchi, le aree periferiche di campagna, le spiagge compreso l'arenile e tutto questo sette giorni su sette con un operatore che controllerà la sala monitor all'interno del comando e terrà costantemente monitorata tutta la situazione e si relazionerà attraverso la radio con tre pattuglie che saranno in servizio sia al mattino che alla sera tutto questo monitorando circa 80 telecamere attive in tutta la città di Fano e una delle pattuglie invece sarà dotata di altoparlante con lampeggianti e passerà di quartiere in quartiere per informare e invitare i cittadini a rimanere a casa e l'ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri della provincia di Pesulbino ha donato al comune di Fano 600 mascherine chirurgi che a loro va un grande ringraziamento ha detto l'assessore alla protezione civile Cristian Fanesi in particolare al dottor Franco Cesaroni che si è occupato di organizzare la raccolta e di consegnare personalmente tutto il materiale il centro operativo comunale distribuirà le mascherine agli organi di funzione essenziale del governo necessari per mantenere il regolare svolgimento di alcune attività imprescindibili e alla protezione civile e Aset invece fa sapere che da lunedì prossimo dal 23 di marzo è sospesa la raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti il servizio sarà effettuato fino a sabato 21 marzo incluso sono invece rinviate a data da destinarsi le prenotazioni già in calendario per i giorni successivi sarà poi il personale di Aset a chiamare per fissare le nuove date qualora la data della raccolta a domicilio sia successiva a sabato 21 marzo si invitano i cittadini a non esporre i rifiuti ingombranti all'esterno dell'abitazione sospesa già da ora fino a quando Aset comunicherà l'attivazione del servizio la possibilità di nuove prenotazioni la misura è stata adottata in sintonia con le prescrizioni governative per il contenimento dell'epidemia da coronavirus invece sul decreto cura Italia abbiamo chiesto oggi di spiegarci un po' meglio e di sintetizzare un po' il tutto ad uno studio di commercialisti e associati sentiamo diciamo che le considerazioni che possiamo fare in questo momento riguardano un decreto che dà misure di intervento relativamente ai versamenti e alle scadenze ai bonus e agli incentivi e sotto l'aspetto finanziario per le imprese il primo per quanto riguarda i versamenti riguarda le scadenze fiscali e dobbiamo dire che tutte le scadenze fiscali che scadevano il 16 di marzo sono prorogate per chi ha un fatturato sotto i 2 milioni di euro nell'anno precedente nell'anno 2019 sono prorogate al 31 maggio e sono le scadenze fiscali e contributive sto parlando mentre chi è sopra i 2 milioni di euro dal 16 di marzo sono prorogate solo di 4 giorni al 20 di marzo a chi scadranno invece come dicevo chi è sotto i 2 milioni di volume d'affari al 31 di maggio possono poi al 31 di maggio o pagarle in un'unica soluzione o rateizzarle l'altro perimetro riguarda i bonus e gli incentivi sono praticamente cosa viene dato ai cittadini e voglio fare anche una precisazione che siamo in attesa del decreto legge io non credo che il decreto legge abbia misure di attuazione quindi il decreto legge sarà quello che dice che verranno dati poi ci vorranno dei decreti attuativi dei decreti ministeriali per attuare questi incentivi che vengono dati quindi come si farà avere questo incentivo perché tutti chiederanno ma io come faccio ad avere il bonus sulla babysitter bisogna aspettare le norme di attuazione quindi speriamo che siano anche veloci ultima cosa che dico riguardano i provvedimenti finanziari le aziende fino adesso abbiamo visto che un po' di cassa se la possono fare con la sospensione dei termini al momento esiste solo la sospensiva data dal governo per quanto riguarda i mutui sulla prima casa per laboratori autonomi e imprenditori se hanno il 33% in meno del fatturato in questo periodo rispetto all'anno precedente e non dice nulla per i lavoratori dipendenti perché comunque loro sono assistiti dalla cassa integrazione in deroga da tutte queste cose quindi loro non dovrebbero avere difficoltà a pagare i mutui così ha ragionato il governo in effetti la bozza del decreto legge salva Italia che adesso viene chiamato decreto marzo ha previsto la cassa integrazione per tutti i lavoratori dipendenti e questa è una cosa molto importante perché normalmente la cassa integrazione è prevista per le aziende che hanno più di 5 dipendenti noi sappiamo che nel nostro territorio abbiamo tantissime aziende piccole se pensiamo al piccolo bar ristorante il negozio quindi aziende che hanno meno di 6 dipendenti sono tantissime questi non hanno una copertura di cassa integrazione normalmente con questo decreto viene creata una sorta di cassa integrazione speciale chiamata emergenza Covid-19 che va ad assicurare a coprire anche tutti questi lavoratori la copertura della cassa integrazione è prevista per un massimo di 9 settimane che potremo fare anche con effetto retrattivo dal 23 febbraio in poi avremo tutto il tempo per fare queste domande di cassa integrazione perché avremo tempo 4 mesi da adesso per poterle fare ecco questa era una sintesi vi ricordo che a fine telegiornale trasmetteremo la versione integrale di questa intervista così potrete ascoltare nel dettaglio anche altre parti interessanti che riguardano appunto questo decreto economico firmato dal Presidente del Consiglio il Comune di Colli al Metauro invece ha disposto la chiusura dei cimiteri e dei parchi cittadini dei parchi comunali fino al 25 marzo prossimo il Sindaco Stefano Aguzzi attraverso l'ordinanza ha così cercato è voluto limitare per quanto possibile la mobilità dei cittadini in linea ai provvedimenti adottati a livello centrale e regionale per quanto riguarda i cimiteri rimarranno garantiti i servizi essenziali con particolare riferimento alle tumulazioni e l'amministrazione di Pesaro insieme all'ambito territoriale sociale numero 1 ha deciso di attivare un servizio di supporto psicologico per tutti i malati di Covid-19 e di loro quindi pazienti il servizio sarà attivo da domani mercoledì 18 marzo e sarà dedicato ai risudenti dei comuni ATS numero 1 ovvero Ugabice Mare Grandara Monbaroccio Monte Ciccardo Monte Labbate Pesaro Tavuglia e Vallefoglia l'assistenza sarà attiva da lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 chiamando il numero che vedete in sovraimpressione per agevolare il collegamento con la psicologa si invita a prenotarsi tramite Whatsapp oppure via mail Estendere i tamponi anche per gli asintomatici è l'obiettivo che si è posto il Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli il dato emergente è di asintomatici che diffondono contagio dunque l'aumento dei tamponi diventa una strategia importante nella parte della nostra Regione ha detto Ceriscioli dove i numeri sono ancora bassi questa strategia ha una maggiore possibilità di successo ci stiamo attrezzando nella zona di Ascoli Piceno con una macchina capace di processare 800 tamponi al giorno per fare un salto di qualità importante riusciremo a quadruplicare la capacità produttiva di oggi lo ha detto appunto Ceriscioli a Radio 24 con questo chiudiamo qui il nostro appuntamento con l'informazione vi ricordo che anche questa sera il telegiornale va in onda seguendo le disposizioni il protocollo del governo quindi abbiamo limitato al massimo praticamente tutto il personale all'interno della televisione in tanti in questi giorni stanno lavorando e continueranno dunque a lavorare da casa io mi fermo qui ci vediamo però domani mattina alle 7.30 circa con la rassegna stampa occhio ai giornali arrivederci a Grazie a tutti.